Quella di non è Rai! Lo so, è una Rai migliore! Una Rai che non sarà sola l'anno prossimo! Creiamo un nuovo senso di sé! Cioè una nuova Lai! No, no, no! Non puoi scendere con quelli! Dovrai passare sul mio cadavere, ti apre! Mi dispiace così tanto! Ero veramente emozionata di lavorare con tutti voi! Che cosa vuoi fare da me? La vita di Rai è più complicata e richiede emozioni più complesse delle vostre! Non siete più ciò di cui ha bisogno! Come cosa, signora? Non puoi impregionarci! Oh, questa sì che è un'idea! Sarà per sempre solo finché Rai non va all'università o fino ai 18 anni o forse per sempre, non lo so, si verrà... Ciao! Ok, non preoccuparti Rai, sei in buone mani! Ora ti cambieremo dalla testa in piedi!